Eccolo il primo segnale tangibile dell'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Queste strutture, ancora spoglie e apparse sotto la pioggia battente sul piazzale di fronte alla stazione Santa Lucia, saranno presto riempite di tutte le indicazioni necessarie a turisti, residenti in città o in regione e visitatori pendolari, tante categorie per le quali sono previsti regimi differenti. Ma soprattutto di fronte alla statua della Madonna si sta montando una struttura più grande dove eventualmente raccogliere informazioni più dettagliate e acquisire il documento d'accesso o la sua esenzione. Il provvedimento, c'è da dire, divide dalla sua nascita e continuerà a farlo. Già nei giorni scorsi favorevoli e contrari si erano ancora una volta scontrati a distanza in attesa della data fatidica del 25 aprile. Il contributo d'accesso sostiene Caffarsetti è il primo provvedimento dopo decenni di immobilismo. Basta lamentere, basta solo convegni, basta solo striscioni e poi non far nulla. Per troppi decenni Venezia ha rinviato i problemi alla generazione successiva. Purtroppo poi, come sempre accade a Venezia, alcuni gruppetti, che sono quelli che erano contro il MOSE prima, poi contro le navi, poi contro la TAV, adesso sono contro anche il contributo d'accesso, faranno il loro siparietto in piazzale Roma. Tra coloro che manifesteranno c'è il consigliere comune alle Giovanni Andrea Martini che del contributo d'accesso dà tutt'altra lettura. Il contributo d'accesso è sostanzialmente un provvedimento mediatico. Praticamente è un far vedere che si fa qualcosa per il turismo senza far niente. Tanto è vero che avremo un sovraccarico di turisti perché nessuno si penserà di non venire a Venezia per pagare 5 euro. 5 euro è proprio lo svilire questa città, il far diventare una città-museo, ma addirittura un museo a pochi schei.